Attraverso l'udito noi possiamo anche entrare in un mondo fantastico, in un mondo che ci isola dai problemi, possiamo lasciarci trascinare da sensazioni bellissime. Io per esempio studiavo sia per gli esami di psicologia che di filosofia sempre con la musica in sottofondo, quindi mi aiutava moltissimo alla concentrazione. Però l'udito per le persone che hanno problemi di udito può essere dato anche attraverso le vibrazioni. Infatti noi oggi affronteremo anche questa tematica, cioè per le persone che non riescono a sentire oppure anche per chi di noi ci sente, ma però la vibrazione è una frequenza molto particolare che ci porterà a stare bene sulla mano ma anche nel corpo e nell'anima soprattutto. Oggi innanzitutto partiremo con una sorpresa, una musicista molto brava che io accompagnerò col mio Oceandrum che ha un tamburo magico con dentro il mare. E poi ci sarà l'anga usato in modo terapeutico, le campane tibetane, il diapason, la kalimba e tante altre cosettine un pochino particolari. Quindi alcune possiamo utilizzarle con ciò che abbiamo già in casa, per esempio se abbiamo un cembalo in casa possiamo accompagnare una musica che ci dà energia oppure che ci rilassa. Come oggi appunto noi useremo l'Oceandrum per accompagnare una musicista molto brava e questo noi lo possiamo fare sempre davanti alla televisione, mentre stiamo magari in macchina, in auto, battendo il piedino, non sull'acceleratore ovviamente. Insomma fare qualcosa che ci dà sintonia con la musica.